Sorrisi e un bel carico di doni, questo hanno portato ieri i vigili del fuoco di Teramo nel reparto di pediatria dell'ospedale Mazzini, dove i volontari dell'associazione Grisù hanno vestito i panni di babbo natale in visita ai piccoli ricoverati costretti a trascorrere il Natale in ospedale. Assieme al direttore facente funzioni del Dipartimento Materno Infantile, Anna Marcozzi, il comandante provinciale dei pompieri, Romeo Panzone, e i vigili di Grisù hanno portato regali e spensieratezza a tutti i bambini ricoverati. Quella di ieri non sarà l'unica iniziativa di Grisù dedicata ai più piccoli. Il presidente dell'associazione, Gabriele Gambacorta, ha infatti confermato che anche quest'anno, il 6 gennaio, ci sarà la tradizionale discesa della Veifana sulla scopa in Piazza Martiri, un rito che si ripete ogni anno a Teramo e che stavolta avrà delle novità che i vigili non hanno voluto anticipare.